Buongiorno a tutti, oggi volevo parlarvi un po' di una rubrica che sto mettendo insieme. Ho avuto questa idea che era a dicembre, avevo già registrato qualche video, poi invece ho deciso di cancellare tutto. Invece poi ci ho ripensato e ho deciso di registrare questi video che credo siano 7-8 con la presentazione. Sono video abbastanza personali per quello non ero molto sicura di volerne parlare, però mi sembrava giusto nel senso dare la mia testimonianza. In questa serie di video vi parlo di un mio problema personale di salute e molto spesso ultimamente mi avete sentito dire per un problema di salute, per un problema di salute. Io faccio fatica a nominarlo, non perché non accetti la situazione, ma perché molto spesso quando tu dici io ho questa malattia ti prendono per un malato di mente. Non è così. Di che cosa sto parlando? Sto parlando della fibromialgia. Io ho questa patologia insieme ad altre patologie, non soltanto queste due. La fibromialgia è correlata insieme a un'altra malattia di cui soffro, ma credo che ne parlerò nel video ora, non ricordo perché ne ho registrati tutti in serie, di una malattia che si chiama sindrome sicca, che ha una cugina meno grave della sindrome di Sjogren. Infatti a volte ve ne sarete magari accorti che a volte quando parlo faccio così in goio, degluttisco, perché io ho poca lacrimazione, ho poca salivazione, ho la pelle molto secca e ho altri vari tipi di problemi di secchezza come nei capelli, altre varie parti del corpo, nelle mani, nelle gambe e così via. Principalmente li ho agli occhi e alla bocca. Io ho sempre sete, anche se ho appena bevuto, io bevo sempre prima di registrare i video, a volte bevo anche durante, ma ho comunque sete, tantissima sete. E quindi vi volevo parlare di questa mia malattia, non è molto facile per me riuscire a parlarne, ma mi sto sforzando di viverla in maniera positiva e nei video che ho preparato parleremo anche della positività. Quindi ho pensato questi video non soltanto per chi come me ha questo problema, ma anche per chi magari ha un amico, perché molto spesso mi sono sentita dire ma la malattia mentale, no, non è una malattia mentale, cioè non siamo pazzi, non siamo degli alieni, siamo delle persone normali che hanno più difficoltà a livello fisico. Si ripercuote sul sistema nervoso? Sì, perché io sfido chiunque ad avere un dolore cronico alla schiena giorno e notte e non avere un giorno che sta più male, che si sente un po' più depresso. Questo non vuol dire essere dei malati di mente, significa avere semplicemente la giornata no. Oggi mi sento più giù perché mi sento più male del solito, domani mi sento un po' meglio, non mi sento più giù, senza per questo risultare dei malati di mente, perché nessun fibromialgico è un malato di mente. E quindi volevo condividere con voi come riesco a gestire le cose, parlare apertamente di questa malattia, farlo in modo positivo, anche se è una malattia, però è viverla in modo più positivo possibile, per quanto sia possibile. E quindi volevo far conoscere un po' anche alle persone che non conoscono questa malattia, che cos'è, come la si può affrontare e che aiuto possono dare le persone, magari tramite quella che è la mia esperienza, anche un aiuto, un qualsiasi tipo di aiuto può essere ben accetto. La cosa che pregherai chiunque è di non pensare mai, mai, che siamo dei malati mentali. Nessun fibromialgico è un malato mentale. Purtroppo molti medici a volte ti fanno sentire come se fosse un ipocondriaco, cioè tu non stai male perché i tuoi esami non dicono questo, finché non incontri un bravo medico e quindi vieni scambiato per un malato mentale. Quindi vi prego, assolutamente nessuno di noi è malato mentale. Nessuno, assolutamente nessuno. Quindi penso che pubblicherò questi video, pensavo di pubblicarli ogni martedì, un video alla settimana per raccontarvi un po' la mia esperienza. E direi che questo è tutto, grazie a chi avrà voglia di vedere questa serie di video. Un bacio grande. E direi che questo è tutto, grazie a tutti.